salve oggi vi presento lo strumento diagnostico più performante prodotto da sun il pdl 5006 perché lo strumento più performante beh semplice si avvia in soli cinque secondi facile intuitivo e con schermate semplificate con il pdl 5006 è possibile fare una scansione di tutta la vettura in soli 30 secondi è costruito con i più alti standard qualitativi sia il software che l'hardware sono interamente prodotti da snap on ora connettiamolo alla vettura il cavo obd è lungo 2 metri 80 con led per illuminare la zona di collegamento la cosa più importante per uno strumento di diagnosi è la copertura dei veicoli presenti il database del pdl 5006 offre accesso per la quasi totalità del parco circolante dagli inizi degli anni 80 cercherà la vettura per te in modo molto semplice seleziona il marchio l'anno di immatricolazione e poi identificativo automatico la funzione scansione codici vi darà la possibilità di conoscere lo stato della vettura già in fase di accettazione il pdl 5006 ha una copertura globale delle centraline presenti nelle auto vetture vediamo la gestione motore lettura e cancellazione dei codici guasto e lettura dei parametri vediamo ora cosa è disponibile nelle prove funzionali test attuatori codifica azzeramenti adattamenti programmazioni non sono solo sul sistema motore ma anche negli altri sistemi ho iniziato dicendo che il pdl 5006 lo strumento più performante ora ti mostro l'unicità di questo strumento nella visualizzazione dei parametri nella lista dei parametri puoi confrontare il valore di riferimento dato dalla centralina e il valore attuale che fornisce il sensore la modalità grafica dei parametri offre la possibilità di mostrare in modo chiaro se un parametro sta lavorando correttamente oppure no il pdl 5006 lavora come la registrazione di un video possiamo mettere in pausa la registrazione fare lo zoom e avere l'accesso su tutto il sistema quando avviene il problema al di là del numero dei parametri il pdl 5006 è in grado di visualizzarli registrarli e salvarli tutti insieme le potenzialità di uno strumento sono inutili se non vengono seguite dalle corrette informazioni la migliore produttività è quella di avere uno strumento che vi farà ottenere dei risultati senza impiegare troppo tempo il pdl 5006 ha i bollettini tecnici di casa madre identificati con l'icona tsb per tutte le vetture presenti nel nostro database questo ti permetterà di poter lavorare su tutte le vetture e marchi usufruendo delle informazioni di casa madre la funzione tsb è presente nella lista delle centraline della vettura che si sta diagnosticando seleziona il sintomo e accedi alle cause e le soluzioni del problema i tsb non sono solo strettamente legati alla diagnosi avrai accesso a tutti i problemi noti delle case madri e ai loro networks con i tsb potrai avere un aiuto veloce per problemi di cui non si conosce l'esistenza individuare esattamente quale componente sostituire è molto importante per il vostro lavoro quotidiano per eseguire questo compito così difficile abbiamo integrato nel nostro pdl 5006 un modulo di prova dei componenti è un database di comparazione per le prove dei componenti per determinare il componente da sostituire ubicazione del componente come funziona tipo del connettore assegnazione dei pin la prova dei componenti di guida su come connette i ricavi dell'oscilloscopio in funzione del componente selezionato le misurazioni di valori di riferimento per il controllo dei componenti non sono mai stati così semplici da verificare prova della tensione della frequenza secondo delle specifiche condizioni di funzionamento prova del segnale del componente lo strumento viene automaticamente impostato secondo la prova selezionata con la selezione generica puoi controllare tutti gli altri sistemi del veicolo per terminare il pdl 5006 include anche delle vere e proprie lezioni sui sistemi elettronici semplice veloce innovativo il pdl 5006 è lo strumento di diagnosi adatto a tutte le tue esigenze lavorative